Il Grande Fratello ha vissuto una nuova puntata in diretta nella serata del 12 febbraio e due dei protagonisti sono stati Sergio e Greta. Infatti, si è scoperto qualcosa di parecchio interessante, che lui ha sussurrato all'orecchio della geffina. Quando l'audio è stato chiaro a tutto il pubblico, c'è chi è sobbalzato dalla sedia, visto che potremmo essere in presenza di una svolta. Alfonso Signorini ha mandato in onda l'episodio Clou, verificatosi al Grande Fratello tra questi concorrenti Sergio e Greta. I due non sempre sono andati d'accordo nell'ultimo periodo, infatti anche intervenuto Varresse nei giorni scorsi in veste quasi di mediatore per cercare di riavvicinare i due. Ma si è anche registrato questo fatto che è stato decisamente bollente. Si era creato quasi una sorta di triangolo amoroso al Grande Fratello, infatti il terzo incomodo tra Sergio e Greta è sembrato essere Vittorio. Quest'ultimo tra l'altro ha anche abbandonato definitivamente la casa nelle scorse ore, a causa dell'eliminazione tramite televoto. Ma tornando ad Ottavi e alla Rossetti, scopriamo insieme cosa le ha detto all'orecchio. Proprio Alfonso aveva detto a Greta che dovrebbe fare una scelta, anche perché con Sergio il rapporto sembrerebbe essere in stato avanzato. Dato che lui le ha sussurrato, come dimostrato da una clip mandata in onda, vorrei tanto fare l'amore con te guardandoti negli occhi. Sergio ha pure aggiunto durante un confessionale, tra noi ci sono stati discorsi che non ci piace citare, ma che entrambi conosciamo. Interpellata da signorini, Greta ha però deluso i fan che vorrebbero una sua relazione con Sergio. Io mi sto godendo me stessa e voglio godermi i rapporti che ci sono lì dentro. Ma c'è solo una grande amicizia. Nel frattempo, eliminato Vittorio Menozzi dal grande fratello. Nella nuova puntata del reality show di Canale 5, tornato in diretta lunedì 12 febbraio 2024, contro ogni pronostico è uscito il modello per volere del pubblico. Il verdetto ha generato caos e malumori in casa, anche perché è stato fatto fuori uno dei veterani di questa edizione che in questi mesi ha legato molto con diversi geffini. Si è scontrato al televoto con Stefano Miele, Beatrice Luzzi e Federico Massaro e a risultare la più votata è stata ancora una volta l'attrice con 30% dei voti. Poi Federico Massaro con il 29% dei voti, Stefano Miele con il 21% dei voti e infine Vittorio con il 20% dei voti che quindi ha dovuto lasciare la casa. Ma subito dopo il verdetto comunicato da Alfonso Signorini, alcuni telespettatori attentissimi che guardavano la diretta su Mediaset Extra ha fatto un commento sottovoce che è però rimbombato sia in casa che sui social. Appena ha presa la notizia di Vittorio fuori, qualcuno rivolgendosi a Beatrice ha detto ce l'ha fatta. Nella diretta su Canale 5 nessuno ha sentito, ma è certo che non sia stata Anita perché, dopo che l'attrice è andata su tutte le furie, ha messo le mani avanti, mi hanno accusato di aver detto che Bea ha buttato fuori Vitto, ma non l'ho detto io e non farò nomi. Poi però il filmato che incastra il colpevole è uscito sui social. Come riporta il sito Bici, chi era collegato su Mediaset Extra ha sentito chiaramente la frase e ce l'ha fatta a O. Assurdo. Per me è assurdo. Frase che a quanto pare è stata pronunciata da Perla, così si spiega anche la sua reazione alla rabbia di Beatrice. Ragazzi qui esce chi viene nominato. Certamente non l'ho nominato io e mai l'avrei fatto, è sbottata. E ancora, se parlo è perché qualcuno ha appena detto a lei ce l'ha fatta. Tutto volevo meno che Vittorio uscisse. Mi è stato proprio detto ce l'ha fatta. Ci sarà pure un filmato. E Perla le ha dato dell'aggressiva ribadendo io, lo ho paura di te all'interno della casa. Uscirà questo famoso filmato nella prossima puntata? E è stato comunque un clamoroso episodio quest'ultimo che c'è stato del grande fratello, con Fiordaliso che si è resa artefice di un episodio veramente insolito. Infatti, nella serata del 12 febbraio Alfonso Signorini l'ha invitata dopo il suo abbandono a incontrare nuovamente Beatrice. Quest'ultima si è emozionata moltissimo, non aspettandosi questa sorpresa, ma tornando alla cantante è un altro avvenimento ad aver rubato la scena. Infatti, nella casa del grande fratello l'assenza di Fiordaliso si fa sentire come la dimostrazione di affetto nei suoi confronti è arrivata quando Signorini le ha fatto fare qualcosa di meraviglioso. Nel momento in cui c'è stato il suo ingresso nello studio, ha iniziato a fare ciò che più ama ma c'è stato un dettaglio che ha fatto tutti rimanere sbigottiti. Dunque, Alfonso le ha fatto un grande regalo al grande fratello. Infatti, Fiordaliso è entrata nello studio del reality show e ha avuto l'opportunità di intonare la sua canzone Non voglio mica la luna, realizzata nel 1986. Ma le immagini della sua esibizione sono subito diventate virali e sono state commentate da tutti per un particolare veramente pazzesco. Quando le immagini sono state proiettate sulla performance canora di Fiordaliso, tutti si sono resi conto che lei ha cantato col microfono capovolto, quindi lo teneva in maniera scorretta. Si è subito scoperto che fosse in playback e, al termine dell'esibizione, Rebecca Staffelli le ha detto, sei talmente emozionata che cantavi con il microfono al contrario. Immediata la replica dell'ex Geffina. E infine, la confessione di Garibaldi e Anita. Puntata del grande fratello molto interessante. Il pubblico ha potuto capire qualcosa in più anche sul rapporto tra Anita e Garibaldi, che nei giorni scorsi aveva raggiunto dei livelli inaspettati. I due sono sempre andati molto d'accordo, eppure la ragazza aveva lanciato qualche piccolo allarme. Aveva parlato di un po' troppa morbosità da parte del bidello, che le dava attenzioni esagerate. Il pubblico del grande fratello ha ipotizzato che Anita e Garibaldi potessero litigare o comunque far deteriorare il legame creato nella casa in questi mesi. Per questa ragione Alfonso Signorini ha deciso di chiedere maggiori spiegazioni ai diretti interessati, ma in particolare le parole di Giuseppe non hanno convinto pienamente il conduttore e l'opinionista Cesara Buonamigli. Infatti, dalla casa del grande fratello il giudizio su Anita di Garibaldi non ha dato molta convinzione. Signorini ha immediatamente precisato che si tratti di un discorso non chiuso, quindi se ne riparlerà anche nelle prossime puntate. Buonamigli ha invece esclamato, io e Alfonso vediamo amori da tutte le parti, Giuseppe non la perde d'occhio un attimo. Ma vediamo cosa ha voluto dire il 31enne calabrese. Garibaldi ha smentito la possibilità che da parte sua ci sia un sentimento fortissimo, che vada oltre l'amicizia, c'è un amore fraterno tra noi, ma non va oltre. Ma hai fatto un'idea diversa. Poi la Olivieri ha aggiunto, nessun uomo mi ha mai trattata come mi tratta lui, è premuroso perché ci tiene. A Giuseppe gli è stato anche domandato se sia geloso del fatto che la ragazza abbia un fidanzato. Garibaldi ha concluso così il suo discorso, non cambia niente per me, l'unica cosa che posso dire è che sarà tosta non vederci e viverci 24 ore su 24. Ma la loro certezza è che questa amicizia sarà coltivata anche fuori dal grande fratello.